Il mio 3 e il mio 3 è circa così Allora, la punta lunga così da 3? No, 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 la rompi subito perché c'è una guida in alcuni casi speciali Allora, lui è aperto, vi spiego com'è aperto perché non l'abbiamo visto un cazzo Allora, lui ha usato una seringa Dentro c'era una gel che è andata a fare una specie di corte di circuito sul bordo elettronico Quindi ha fatto il passaggio direttamente sul motore E ora è aperto Allora, la seratura è aperto Cioè, lui la alimenta con la batteria e fa sì che il swing bolt abbia Quando leva la batteria la seratura si blocca Certo che la seratura muore in questo caso O è morta perché ha perso la memoria O è morta perché non sanno il codice È morta perché non sanno il codice di corte di circuito sul bordo